Perché non sono sui siti e sui portali per DJ? Ne parliamo in questo video dopo la sigla. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Spesso mi viene chiesto perché non faccio parte di alcuni aggregatori dove si trovano vari DJ o comunque altre figure professionali. Ci sono dei portali molto famosi, ci sono anche delle agenzie che lavorano molto bene sul territorio, che hanno tantissimi eventi, dove però non mi annoverano tra i loro performer. E questa è frutto di una scelta ben precisa anche portata avanti nel corso degli anni. E da di questo mi piacerebbe parlare con te in questa fase. Il fatto che lo faccia io non significa che sia la scelta giusta per te. E quindi approfondendo l'argomento, discutendolo insieme, potresti anche arrivare a capire cosa fare e quando è il caso di far parte di certe dinamiche. Niente contro questo tipo di agenzie. Ognuno fa il suo lavoro, ognuno cerca di andare nel miglior modo possibile incontro alle esigenze del cliente e anche di fare il profitto in maniera più lecita. Ovviamente sta ad ognuno di noi scegliere se far parte di certi meccanismi oppure no. E sinceramente se certi meccanismi non ti piacciono, ebbene non tu ne sia complice. Ci sono vari punti della mia storia in cui ho capito che era bene non far parte di determinati aggregatori. Per esempio c'è un sito, senza far nomi, molto famoso, molto utilizzato, nel quale ci sono un ampio campionario di DJ, musicisti, performer, persone che possono curare l'intrattenimento musicale di un evento, di una serata o quant'altro. Spesso mi è stato detto, sono andato a dare un'occhiata lì, non ci ho capito niente, allora mi sono rivolto a qualcuno, che mi ha consigliato il tuo nome. Bene, questa è una cosa molto importante. Prima di tutto far parte di certi siti vuol dire mettersi in mezzo a personaggi di un certo tipo, al quale forse è bene stare nella larga. Perché in qualche modo le persone non hanno tutti gli elementi per distinguere la professionalità, la carriera, le capacità, tutti gli elementi che caratterizzano un professionista, un DJ, piuttosto che chiunque altro. Di conseguenza sei in mezzo ad una lista e potresti essere scambiato tranquillamente con uno degli altri. Se sei in un gruppo di sfigati, puoi passare tranquillamente per sfigato anche te. Detta male, ma un po' questo è il concetto. In qualche modo, non essere in determinate liste ti può consentire di elevarti in uno scalino superiore, in un livello superiore. Dipende ovviamente dal tuo percorso, da quello che fai costruendoti, costruendo la tua personalità. Però, se proprio vuoi costruire la tua personalità specifica, è bene che non sia confusa con quella di altri. È bene quindi non far parte di listoni di DJ, personaggi e quant'altro. Perché in qualche modo, là si va a pescare laddove uno vale l'altro. E allora la tua specificità viene meno. Poi puoi avere il video più bello del mondo, la brochure, il teaser, la cosa più accattivante. Ok, però sei comunque nel mezzo al mucchio. Il fatto di poter essere distinto, di poter essere anche in qualche modo esclusivo, può giocare al tuo favore. E anche, può anche darti il coltello dalla parte del manico in fase trattativa. Perché non c'è una concorrenza a ribasso, sei te che vieni chiamato, fai il tuo prezzo, tratti e poi il cliente sceglie se volerti oppure no. Può essere così anche da parte dell'agenzia. Io per esempio ci sono delle agenzie con cui lavoro in esclusiva, ovvero loro chiamano sempre me. Oppure chiamano sempre un collega al quale poi posso essere io a sostituirlo. Così come l'agenzia chiama senza me, sempre me, posso mandare quel collega per fare uno scambio di lavori. In questo modo ti dico che lavoro con agenzie, ok. Ma non lavoro con quell'agenzia che mandano lo stesso evento a una dozzina di mail e il primo che risponde fai lavoro. Anche perché in questi casi spesso ti impegnano tutto il giorno quando devi soltanto lavorare due ore. Dal loro punto di vista va bene, perché nell'interesse dell'agenzia che piazza musica, più servizi vendono e più guadagnano. Quindi avranno sempre l'interesse a vendere il live all'aperitivo, il violino alla cerimonia, la cantante per tre canzoni e quant'altro. Di conseguenza ti impegnano tutto il giorno, che comunque non è che puoi arrivare lì soltanto un quarto d'ora prima di suonare, però cercano di pagarti il meno possibile perché il tuo lavoro è limitato. Per me è fondamentale l'impegno, perché comunque le date sono relativamente poche. I fine settimana in stagione sono pochi, sono quelli. Dedicare un sabato in un posto piuttosto che un altro ne deve valere la pena, soprattutto se decidi di fare il freelance. Di conseguenza non mi interessa se il lavoro è un'ora o cinque, mi interessa che sia la massima resa possibile per me. Ognuno è libero di scegliere come vuole. Per chi come me si vuole caratterizzare, essere legato a certe dinamiche può essere molto controproducente. Per chi invece vuole scegliere di lavorare il più possibile e di riempirsi il calendario è una scelta legittima, assolutamente non contestabile. Per me, che appunto cerco di anche impegnarmi continuamente in canale, l'attività su web, eccetera, è opportuno che vada a costruirmi un personaggio, un tipo di figura professionale e di conseguenza che riesca a massimizzare il più possibile poi nel concretizzare il lavoro. Ci sono dei casi in cui però può essere consigliato far parte di questi siti, questi portali o andare a cercare le agenzie. Sono principalmente due, quando si inizia la carriera o quando si vuole dare una svolta alla propria carriera. All'inizio, per fare esperienza, può essere utile, anzi, essere guidato in qualche modo da delle agenzie che ti danno tutti i paletti possibili, arriva alle 8 ore, vestiti in questo modo, magari anche una scaletta se si tratta di eventi di un certo tipo. Si limita molto l'apporto personale, però comunque si imparano tante dinamiche molto importanti quando si va poi a lavorare. Quindi assolutamente consigliato ad inizio carriera per chi deve fare esperienza, per chi inizia. E poi per chi si vuole rimettere in gioco è un buon modo, perché in qualche modo ti eviti la fatica di fare tutto da solo, hai chi ti trova le serate, che hai modo di iniziare piano piano a rientrare nel giro, farti dei contatti o rifarti dei contatti, oppure dare una svolta alla propria carriera se decidi di cambiare genere e cambiare tipo di DJ che vuoi essere, allora assolutamente ti fai la tua paginina in quel determinato portale, vai a sentire l'agenzia, ti fai il tuo profilo, cerchi di far crescere il numero di lavori, il numero di clienti, il numero di feedback positivi, conosci le location, è molto utile questo tipo di lavoro, salvo poi abbandonarlo quando lo riterrai opportuno perché potrai riuscire a creare il tuo personaggio e anche il tuo booking da solo o comunque con l'aiuto di figure specifiche che si occupano di te, quindi quello di cui ho parlato in questo video non è assolutamente da seguire alla lettera ma può essere un punto di riferimento di partenza importante per andare a costruire la propria carriera. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, anche cosa hai fatto, cosa hai scelto per te, per la tua carriera o anche scelte fatte in passato, esperienze e continuo a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.